Nella città di Vonn sono in corso i preparativi per le prime celebrazioni virtuali del Canada Day. Come parte dei festeggiamenti, la città sta chiedendo ai residenti e alle attività commerciali di inviare un videomessaggio lungo dai 3 ai 7 secondi, in cui si augura alla comunità un felice Canada Day. Interessati avranno tempo fino al 15 di giugno e le registrazioni saranno condivise durante l'evento virtuale del 1 luglio. È un paio di mesi fa, perché ovviamente il Covid-19 è successo, questa grande sfida che abbiamo a livello globale, anche qui nella nostra città di Vonn dobbiamo adattarci un po' su queste nuove circostanze. Allora ho chiesto al mio equip alla città di fare la celebrazione del Canada Day, non come la facciamo sempre con 10 mila persone ai vari parchi qui nella nostra città, ma di fare virtualmente. E la bellezza è anche che noi invitiamo coloro che vogliono fare un video per celebrare il Canada di spedirlo a Vonn.ca e lì troverete l'informazione necessaria per spedire questo video. Lo potete fare sotto tutti i punti di vista, cioè il significato del Canada. Cosa vuol dire il Canada per voi? Speditelo il vostro video e può darsi, non si sa mai, la città lo sceglierà.